Ciao, sono Emanuela Madio, docente e fondatrice di case di fotografia. Mi occupo di didattica fotografica dai 9 ai 99 anni. Come usare la fotografia a scuola è un corso dedicato alla lettura e l'interpretazione delle immagini, alla ricerca sul web e anche la produzione creativa. Vedremo come fare ricerche fotografiche sul web, utilizzando database specifici rilasciati con licenza Creative Commons. Inoltre vedremo anche come utilizzare social network, in particolare Instagram e Pinterest, per fare delle ricerche tematiche. La fotografia non è soltanto un linguaggio artistico, ma è anche un medium per parlare di tantissimi argomenti. Infatti vedremo insieme dei percorsi adatti a tutte le materie curricolari, quindi non solo arte. anche letteratura, lingue straniere, scienze, geometria, educazione fisica. Durante questo corso lavorerai alla creazione di un'attività fotografica da svolgere con la tua classe e riceverai tanti consigli pratici per organizzarla al meglio. Chiuderemo il percorso con una ricca bibliografia e tanti account social da seguire, giorno dopo giorno, per lasciarsi ispirare dalla fotografia. Ti aspetto alla prima lezione. A presto!